Questo è il terzo video dedicato alle esternalità. Dopo un video con una introduzione generale ho dedicato un video alle esternalità positive e questo invece è dedicato alle esternalità negative. Nello specifico andremo a vedere graficamente cosa succede quando le esternalità negative vengono internalizzate all'interno dell'impresa che emette appunto questo costo esterno. Come al solito prima di sfogliare le slide vi invito ad iscrivervi al canale attivando la campanella per rimanere sempre aggiornati. Se il video mi è stato utile potete lasciare un like e vi ricordo che il falo dell'economia è presente anche su facebook potete seguirlo potete seguire la pagina facebook per avere altre informazioni. Allora, le esternalità negative si verificano quando, come abbiamo detto anche nel video introduttivo, un costo di un'attività ricade su soggetti che non sono direttamente coinvolti in quell'attività. Abbiamo fatto anche degli esempi, il tipico esempio è quello dell'inquinamento emesso da un'impresa. Questo inquinamento va in qualche modo a danneggiare le persone che vivono vicino all'impresa e non l'impresa stessa, quindi sono un costo che va a ricadere su altri soggetti. In questo video vediamo appunto graficamente cosa comporta in un mercato la presenza di una esternalità negativa. La differenza tra presenza e assenza di esternalità. Se non ci sono esternalità, quindi un mercato privo di esternalità, il livello scelto dal privato come ottimale per il livello di attività coincide con il livello socialmente ottimale. Quindi in quel caso il livello individuale di produzione e il livello che sarebbe socialmente ottimale di produzione coincidono proprio perché non c'è esternalità. Se c'è esternalità negativa, il livello dell'attività scelto dal produttore, quindi dal singolo, invece è maggiore del livello socialmente ottimale. Quindi se c'è esternalità negative, ripeto l'esempio tipico è quello dell'inquinamento, se un'impresa può inquinare quanto le pare piace, sceglierà di produrre il maggior livello possibile del bene o servizio che sta producendo. Proprio perché se ne può, passatemi il termine, se ne può fregare di inquinare di più. Se invece vengono ridotte le esternalità negative prodotte da questa impresa, di conseguenza anche la sua produzione si ridurrà. E quando è che la produzione viene ridotta? Quando le esternalità negative vengono riportate all'interno dell'impresa. Quindi quando quel costo esterno diventa interno. Ed è questo che andremo a vedere tra un attimo con il grafico. Quindi per eliminare le esternalità negative, questo costo esterno deve essere riportato all'interno dell'attività produttiva. Deve essere un costo che deve essere sostenuto dalla stessa società che produce quel costo. Graficamente cosa si osserverà? Lo vedremo appunto nella strada successiva. Uno spostamento verso l'alto dell'offerta del bene. Perché se il costo esterno viene internalizzato, facciamo aumentare i costi dell'impresa. Perché magari l'impresa per ridurre l'inquinamento dovrà aumentare i propri costi per impiantare dei nuovi filtri contro i fumi ad esempio. O dovrà inventare una tecnologia meno impattante, meno inquinante. E questi sono costi in più per l'impresa. Un costo in più per l'impresa cosa produce nella semplificazione della domanda e dell'offerta? Produce uno spostamento verso l'alto dell'offerta. Perché l'offerta rappresenta anche i costi marginali dell'impresa. E l'aumento dei costi spinge i costi verso l'alto. Il costo minimo di produzione aumenta. E poiché l'offerta è anche il costo minimo a cui l'impresa è disposta a vendere quella determinata quantità di bene. Allora tutta l'offerta si sposta verso l'alto perché i costi stanno aumentando. E allora lo vediamo graficamente questo concetto. Abbiamo appunto domanda nella sua forma tradizionale. Andiamo a trovare l'offerta e questa è la quantità scelta dal privato. Quindi con l'offerta e la domanda senza considerare questi costi esterni. Se invece andassimo a considerare i costi esterni dovremmo spostare l'offerta verso l'alto. Perché ai costi iniziali, ripeto, andatevi a vedere i video sul mercato e quindi sull'offerta. L'offerta rappresenta i costi di produzione dell'impresa. Quindi se andiamo ad aumentare i costi perché il costo esterno, cioè l'esternalità, viene portato all'interno. Ecco che l'offerta si sposta verso l'alto. Si sposta verso l'alto se internalizziamo tutta l'esternalità. Si sposta verso l'alto di un segmento pari al costo esterno. Cioè quella che prima era l'esternalità negativa in questo caso. Che succede? Quindi dobbiamo trovare il nuovo equilibrio con la vecchia domanda e la nuova offerta, quella tratteggiata. Il nuovo equilibrio lo vedete nel nuovo pallino verde. Andiamo a tracciare le sue coordinate. Vediamo in basso che la quantità prodotta, una volta che l'esternalità è stata internalizzata e che quindi abbiamo spostato verso l'alto di un'offerta, è una quantità inferiore. La quantità soc, che sarebbe la quantità ottimale dal punto di vista sociale, cioè una volta eliminato l'inquinamento, ad esempio, è minore della quantità privata, cioè quantità PVT, cioè quella scelta dall'impresa quando non ha vincoli di inquinamento e quindi può inquinare quanto le pare piace e quindi può produrre anche di più senza tenere presente questo costo esterno. Quindi la quantità privata e il livello, quantità PVT e il livello di produzione scelto dal produttore in presenza di esternalità perché l'esternalità c'è ma c'è al di fuori dell'impresa. La quantità sociale, la quantità, la quantità soc e la quantità ottima sociale, che è quella quando eliminiamo l'esternalità perché la portiamo all'interno dell'impresa e quindi andiamo a caricare l'impresa di questo costo esterno. Non so se è chiaro, penso di sì, se unite appunto il primo video introduttivo più questo che vi fa vedere graficamente cosa succede, vi rendete conto che appunto se vogliamo ridurre l'inquinamento, l'inquinamento lo deve ridurre chi lo produce, quindi l'impresa. Quell'impresa deve attuare in qualche modo delle tecniche produttive meno impattanti o deve ridurre le emissioni in qualche modo e sono quindi costi in più che deve sostenere. Questi costi in più sono costi che invece se non li sostiene vanno a ricadere su altre persone. Il costo in più se viene portato all'interno dell'impresa, si dice che viene internalizzato, è graficamente esposta l'offerta verso l'alto. Spostando l'offerta verso l'alto, il nuovo equilibrio che andiamo a trovare è un equilibrio che vede una produzione inferiore, un livello di produzione inferiore. Quindi quello che abbiamo detto prima a parole lo abbiamo visto adesso graficamente, e cioè che la quantità scelta dal singolo produttore senza tener presente l'esternalità negativa, la quantità PVT è maggiore rispetto a quella che viene stabilita stabilita quando l'esternalità negativa viene internalizzata, cioè quantità sociale. Quindi graficamente abbiamo osservato che in presenza di esternalità negativa il livello di produzione scelto dal produttore sarà maggiore rispetto al livello socialmente ottimale, perché se diciamo che c'è esternalità negativa vuol dire che il produttore può emettere tutto l'inquinamento che gli pare e piace senza curarsene e quindi riduce i suoi costi perché non deve tenere presente di questi costi appunto che finiscono all'esterno. Per raggiungere il livello socialmente ottimale, cioè quel livello di produzione che in qualche modo è accettato perché è accettato il livello di inquinamento collegato a quel livello di produzione, allora dobbiamo portare dentro questi costi esterni, quindi dobbiamo internalizzare l'esternalità. Con questa operazione che facciamo andiamo ad aumentare i costi dell'impresa, questo aumento dei costi dell'impresa fa traslare verso l'alto la curva di offerta e andiamo a trovare il nuovo equilibrio e in quel nuovo equilibrio troveremo la quantità socialmente ottimale che abbiamo visto essere inferiore rispetto a quella scelta dal singolo produttore. E' così perché appunto l'impresa deve pagare il costo, nel caso dell'inquinamento, deve pagare il costo di inquinare e lo deve pagare in qualche modo, rimborsando i cittadini o limitando l'inquinamento in un modo o nell'altro, sono costi in più e quindi avviene quello che abbiamo visto nel grafico. Quindi, riassumendo, le esternalità negative si manifestano quando un costo di produzione ricade su soggetti che non sono legati all'attività produttiva. In presenza, quindi quando avviene un fenomeno del genere, quindi in presenza di esternalità negativa, la quantità prodotta, quindi scelta dal produttore, è maggiore rispetto al livello di produzione socialmente ottimale. Se andiamo ad internalizzare l'esternalità, cioè se andiamo a far trasportare quel costo esterno sull'impresa, quindi lo spostiamo da un costo che ricade su altri soggetti, lo spostiamo all'interno dell'impresa, quindi è un costo che diventa interno all'impresa, beh, in quel caso si raggiunge la quantità ottima a livello sociale. E graficamente abbiamo visto cosa succede nel nostro mercato. Spero che sia un po' più chiaro, quindi vi ringrazio per aver visualizzato il video, come al solito se vi è piaciuto, se vi è dato informazioni utili, potete lasciare un like. Vi ricordo che potete iscrivervi al canale per rimanere aggiornati e attivate la campanella per ricevere gli alert quando vengono caricati i nuovi video. E così come vi ricordo che il faro dell'economia è presente anche su Facebook o con una pagina, potete seguire anche la pagina su Facebook per avere altre informazioni sull'economia. Detto ciò non mi rimane altro se non darvi appuntamento al prossimo video.